cari amici ben trovati siamo ormai nella settimana santa e quindi questo è l'ultimo appuntamento poi ci fermiamo con queste risposte creative che abbiamo segnalato in questo periodo di quarantena quaresima piuttosto lungo e anche sofferto un periodo in cui abbiamo buttato via molte cose abbiamo scoperto il valore di altre alcune le abbiamo riusate rivalorizzando il museo degli use costumi di san michele ha invitato i trentini a mandare segnalazioni con delle foto di questi oggetti che sono stati recuperati anche perché rappresentano parte del nostro passato ad esempio il gruppo roveretano degli amici di rolfollero ha donato la collezione di oggetti fatti a mano a uncinetto questa era dunque l'ultima segnalazione vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon cammino in questi ultimi giorni verso la pasqua a risentirsi